Sono iniziati gli accertamenti alla Caffaro di Brescia, sotto la lente le contaminazioni da cromo esavalente e mercurio in diversi comparti della fabbrica. Nelle ultime ore sono iniziati anche i carotaggi da parte dei tecnici dell'ARPA, ma non solo, presso il capannone 24. Da domani invece si procederanno con i prelievi del cromo, ben oltre ai limiti di legge, il quale si troverebbe nel sottosuolo in falda, in corrispondenza dei quattro serbatoi dismessi ma non ripuliti. Nel frattempo è stato approvato l'emendamento del Movimento 5 Stelle a firma del consigliere regionale Ferdinando Alberti che prevede un contributo da parte di 500 mila euro della regione che si aggiungono ai 70 milioni previsti dal Ministero.